amiche ed amici della lettura salve immaginate per un attimo di trovarvi in una baita tra le montagne che pace che serenità che tranquillità qual è il problema che se siete abituati al caos cittadino come me forse forse una settimana quanto potreste durare io credo tre giorni non di più di questo e di altro parleremo con l'ospite di oggi permettetemi di presentarvi elena boggia ciao elena ciao alfonso ciao a tutti come stai sto bene grazie tutto bene elena partiamo dall'inizio per chi è elena boggia elena boggia è una persona molto legata alla propria infanzia ai valori che sono stati insegnati da piccola e soprattutto è molto legata alla natura che che la circonda da sempre da tutta la vita e che mi per fortuna mi circonda ancora tuttora come come è nato questo amore per la natura perché noi di natura parleremo nel in questa intervista e di come la natura ha influenzato anche la tua scrittura ma ti faccio una domanda forse impertinente non hai mai desiderato il caos cittadino assolutamente no quando mi capita di fare comunque del o per lavoro per per conto mio dei giri in città lo faccio volentieri mi piace piace girare per vetrine per locali però arrivato a un certo punto un po come come cenerentola quando scatta a mezzanotte deve tornare a casa assolutamente non fa per me è anche un po una questione caratteriale mi piace molto la tranquillità la calma il caos della città le luci rumori il caos dopo un certo limite non fanno per me posso confessarti un segreto ma troppo noi abbiamo una piccola casetta al mare in una zona molto bella zona di pestum però lato mare quindi l'ideale cioè io per andare a mare devo attraversare la pineta letteralmente la strada e la pineta spettacolo due giorni poi devo andare ho bisogno di andare in città anche poche ore attenzione anche poche ore magari vado al mare pranzo poi ho bisogno di andare in città io vivo a salerno quindi una bella cittadina abbastanza popolosa no bisogno di di sentire il caos e poi la sera me ne torno anche se qualche volta sono tornato la mattina dopo poi magari sono altri due tre giorni e purtroppo non riesco aperte non fa parte non so se una questione caratteriale solamente o o per come siamo abituati insomma se nasciamo in un posto stiamo bene in un posto questo non lo so nel mio caso è così ma sai io poi ho vissuto a bergamo a bolza a bolzano nella zona molto periferica la città mi piace soprattutto di notte però sono incapace di vivere lontano da dalla profilità troppo silenzio non ti piace ok com'è nata la tua passione per la scrittura elena quando hai sentito l'esigenza di raccontare questa storia in particolare allora la passione per la scrittura è iniziata si torna molto indietro nel tempo quando ho iniziato la scuola quindi ai sei anni quando mi davano i primi temi da svolgere li vedevo che mi dava molta soddisfazione e mi piaceva proprio riempire pagine su pagina mi veniva molto naturale da lì pian pianino anche nei ritalli di tempo a casa appena potevo scrivevo perché vedevo proprio che mi piaceva più che altro anche se non ho mai capito il perché però mi dava molta soddisfazione quando avevo dei momenti tristi no quando c'è la giornata no scrivere diventava uno sfogo difficilmente quando passava una bella giornata magari mi annotavo qualcosa sul diario per dire però le cose più più profonde sono nate proprio nei momenti in cui avevo la giornata storta al momento il momento giù e in quel caso quando avevi il diciamo la giornata storta rispetto a quando eri contenta cambiava il tuo modo di scrivere assolutamente sì all'inizio scrivevo tantissime poesie infatti sto lavorando su una raccolta di poesie perché comunque mi piacerebbe farle emergere anche loro l'ho sempre tenute comunque da parte per poche persone sicuramente c'è il momento di tristezza di di preoccupazione vanno un pochino a risvegliare qualcosa di profondo che invece nel momento di felicità e sono una persona che apprezza le cose belle positive non è che questa differenza c'è perché non apprezzi però è più non superficiale però più leggiadrano come scrittura non riesco ad andare nel nel profondo di me stessa cosa che invece con le note positive negative emerge invece come lettrice tu che tipo di lettrice sei Elena sei una lettrice che ha un genere in particolare sei una lettrice onnivora allora io ho iniziato a leggere anche lì da piccola un po sempre grazie alla scuola che mi forzava a leggere anche se magari non volevo però ho iniziato così leggo un po di tutto purtroppo avendo letto da sono tanti anni che leggo come dicevo non ricordo tutto quello che ho letto mi piacerebbe ricordare tutti i romanzi tutte le storie che ho letto ma ne ricordo poche diciamo che non ho proprio un genere particolare ma prediligo quei romanzi dove alla fine mi lasciano qualcosa mi lasciano un messaggio che io finisco di leggere il libro allora intanto trovo che sia bellissimo avere un bel libro che ti aspetta la sera è come se avessi una persona no che ti aspetta la sera non vedi l'ora di vederla e alla fine quando leggi quando fischi leggere un romanzo e ti lascia un messaggio un qualcosa che magari non avevi valutato una prospettiva diversa di vita che magari con le proprie esperienze non si aveva non si è avuto modo di vivere di conoscere questo ecco questo è il genere di romanzo che piace a me non mi piacciono tantissimo i romanzi rosa diciamo così c'è ci deve essere anche una parte magari di storia di storia d'amore o comunque di qualcosa di rosa ma non prettamente rosa lo trovo noioso come non mi piacciono i gialli esclusivamente gialli magari una parte del romanzo di giallo sì ma non deve essere totalmente giallo non deve essere solo thriller ecco questi sono i generi che mi piacciono un po di meno passiamo al tuo ultimo romanzo elena le chiavi di casa partiamo dal titolo perché le chiavi di casa allora io penso che non ci ho pensato e ripensato questo titolo penso che non non avrei potuto chiamarlo in modo diverso allora intanto proprio all'interno del libro c'è una parte dove il padre della protagonista spiega l'importanza che ha un mazzo di chiavi nella vita delle persone perché la casa è rifugio la casa sicurezza non tutti ce l'hanno ed è una delle poche cose sicure della nostra vita e allora il padre della protagonista le dice quando sentirai tintinnare le chiavi o le tue nella borsetta o quelle di qualcun altro ci pensi penserai a questa fase che ti ho detto dell'importanza che hanno le chiavi nella nostra vita le chiavi inteso come come casa come non solo come casa fisica ma anche come come luogo dove ci aspettano magari dove ci aspetta la nostra famiglia noi italiani abbiamo questo diciamo un poco questo retaggio culturale un po l'amore per la casa per l'acquisto della casa certo costicchia in effetti come si dice muto trentennale una paura che fa paura perché però sono legato per 30 35 anni e hai sempre quella quel timore che fino all'ultima rata la banca potrebbe la porta però è quasi un salto o meglio neanche un salto nel buio è quasi un atto di fede è così forte l'idea di protezione che dà la casa che noi accettiamo di vincolarci per praticamente una vita pur di avere qualcosa non solo di nostro perché sarebbe poi limitante ma qualcosa da lasciare in eredità ai nostri figli alla futura generazione e questo è qualcosa che quelli della nostra generazione apprezzano ancora sai per i nonni genitori i giovanotti della nuova generazione io lavoro a scuola sono un prof quindi sono uno di quelli che ti obbligava a leggere tra l'altro sai avendo il corso è merito della tua categoria che sono anche qua oggi ecco questo è positivo allora allora vuol dire che abbiamo lavorato bene dai sì sì sicuramente diciamo che la nuova generazione forse altri valori altri ideali vedremo vedremo rimaniamo ancora sulle chiavi di casa vorrei chiederti elena di raccontarci un aneddoto collegato alla stesura del romanzo allora quando si dice no che i sogni sono bisogna tirarli fuori dal tipico sogno nel cassetto ecco questo libro per me era un sogno nel cassetto in tutti i sensi nel senso che avendo passione per scrivere era proprio una cosa che desideravo fare ma è stato veramente un sogno nel cassetto perché questo libro le prime pagine di questo romanzo sono state per anni nel cassetto del mio comodino all'interno di un bellissimo quaderno che mi aveva regalato una mia amica che sapeva appunto di questa mia passione così perché spesso mi escono queste frasi nella testa quando sono abbastanza brava e eligia al dovere me le ha noto subito altrimenti si perdono e quindi ho utilizzato questo quaderno per scrivere queste prime 5 6 pagine così dal nulla non si chiamava ancora anelli non sapevo bene quale doveva essere la sua storia e sono uscite queste pagine di certo e sono rimaste ferme con tutte le altre pagine bianche davanti per anni poi cosa è successo è successo una una questione reale della mia vita che ha coinvolto me e la mia famiglia in breve siamo dovuti andare via dalla nostra casa e da lì parte tutto il discorso delle chiavi di casa abbiamo dovuto lasciare la nostra casa e trasferirci altrove poco distante ma comunque non eravamo più in quella casa e questo questo fatto ha fatto sì che riprendessi in mano quelle pagine e continuassi da lì è nato poi le chiavi di casa il tuo romanzo Elena questo lo possiamo dire senza fare spoiler ruote intorno ad una contrapposizione molto semplice che è un po' la contrapposizione che ci sta caratterizzando in questo momento da un lato la tranquillità la semplicità di un di un paesino di campagna di un comune montano dall'altro il caos il casino l'inquinamento anche semplicemente l'inquinamento dovuto al rumore del vissuto o alle luci il casino il rumore l'inquinamento delle città di una qualsiasi città italiana che non è solo salerno voglio dire le grandi città perché hai scelto di come dire hai fatto questa scelta netta di campo ti sei schierata nettamente per la vita ritirata la vita di un paesino montano forse perché come dicevo all'inizio io ho questo amore incondizionato per il luogo in cui in cui sono nata e sono cresciuta e sto facendo crescere alla mia famiglia un po' perché sono io di animo così di carattere così mi piace proprio la tranquillità magari starei bene anche in una città però insomma diciamo che se posso sedermi in mezzo alle mie montagne magari vicino ad un fiume sotto un albero diciamo che sono più stimolata sicuramente soprattutto come dicevi tu parlavi inquinamento delle delle grandi città a me che ha fatto scattare anche questa volontà di fare questo libro è proprio perché l'inquinamento delle grandi città me lo sono trovata in un comune di montagna dc ho subito questo inquinamento in una casa in mezzo al bosco quindi per me è stato il paradosso e allora da lì è nata questa volontà di fare questa piccola giustizia e almeno nel libro questa giustizia c'è stata perché una cosa che possiamo anticipare lettori il tuo il tuo è un romanzo ma è un romanzo che nasconde una serie di segreti di misteri di come dire di colpi di scena se ne voglio dire non è la storia di haidi no è qualcosa di molto più hanno associato haidi ma non si forse perché la bambina da piccola corre libera nei prati ok ci sta qualcosa di molto più complesso questo lo possiamo dire sicuramente sì prima hai citato la protagonista a questo punto io direi di parlarne chi è nelli nella finzione del romanzo e nella realtà c'è qualcuno che ha ispirato a nelli allora nelli per quanto abbia provato a tenermi fuori da questo romanzo nelli è sicuramente molto autobiografico non completamente porta di me appunto questa passione per la propria infanzia e bellissimi ricordi che ha della propria vita in mezzo alla natura l'attaccamento con il suo con il suo cane che ha dovuto abbandonare non da solo l'ha lasciato alle cure della vicina però non l'ha potuto portare con sé sicuramente tutti questi fattori rispecchiano la mia di vita poi va bene fa una vita completamente diversa quindi sì se deve essere ispirata a qualcuno è ispirata a me diciamo che nella storia la sua storia la storia di nelli è più come spiegarti come se fosse la storia della mia famiglia raccontata da con la voce di una delle mie figlie ok perché lei è la figlia che ha dovuto seguire la famiglia abbandonare la casa nelli nel momento in cui il romanzo inizia è una giovane donna che da sola in una città fa un lavoro che le piace perché fa la pasticcera quindi è comunque realizzata dal punto di vista lavorativo però è come se stesse vivendo un presente che non le appartiene è come se fosse in stand by vive di ricordi del suo passato bellissimo però c'è sente questo richiamo forte che poi scoprirà essere richiamo della sua casa di infanzia che la chiama a sé finalmente da retta a questo questo richiamo inizia questo viaggio di ritorno nella sua vecchia casa e da lì poi troverà tante vecchie amicizie tante nuove insomma troverà tante tante cose molto positive dall'altro lato c'è nick che è nick nella finzione del romanzo e nella realtà c'è qualcuno che conosci che ti ha ispirato questo personaggio allora diciamo che non c'è un nick reale al cento per cento nella realtà mi sono lasciato ispirare sicuramente ora ti dico la bellezza di creare personaggi in questo romanzo mi ricorda una frase di uno scultore che ho sentito da qualche parte in qualche intervista da qualche parte insomma questo scultore diceva faceva delle opere straordinarie magari creava dei cavalli dei cavalieri dal legno dal marmo e qualcuno gli ha chiesto ma come fai come fai a iniziare alla tua scultura come ti fa ispirare e lui ha detto questa frase non sono io a creare queste sculture sono loro che sono all'interno del blocco io devo solamente togliere il materiale che c'è intorno no la stessa cosa l'ho sentita io nel creare questi personaggi questi personaggi esistevano già da soli io ho solamente descritto le loro caratteristiche li ho fatti venire alla luce però esistevano esistevano già avevano un loro carattere avevano i loro pregi loro difetti le loro caratteristiche però non ho fatto fatica a crearli perché esistevano già nick nello specifico diciamo che è un po' l'uomo perfetto l'uomo ideale che conoscerà nelli di cui si innamorerà è un uomo da un passato molto molto triste molto insomma fatto tanti sacrifici e ha vissuto delle delle esperienze molto tristi però ha vissuto anche lui da piccolo nel paese dove ha vissuto nelli in tempi diversi e questo li accumulerà ancora di più a complicare le cose però nella vita di nick c'è come dire un piccolo segreto che cosa ci puoi dire senza fare spoiler e bisognava creare un po di suspense in questo romanzo si rischiava di diventare un po il romanzo che come dicevo all'inizio non mi piacciono i romanzi troppo troppo dolcinati stava prendendo una piega molto dolcinata allora ci voleva un colpo di scena praticamente nelli scopre che tutta questa perfezione nel suoni che non non esiste che c'è un lato scuro di nick quello che ho voluto far emergere in questo passaggio è che tante volte non ci fidiamo del nostro istinto se con quella persona sta andando tutto bene il nostro cuore ci dice che questa persona magari fa proprio per noi ci lasciamo confondere dai pregiudizi dalle parole che qualcun altro perché qualcun altro magari il giudizio di qualcun altro e siamo capaci da soli di rovinare una cosa che in realtà magari era perfetta così com'era secondo te lo facciamo perché per quel meccanismo di autosabotaggio che è latente in ognuno di noi e che ci fa come dire ci mette lo sgambetto ogni tanto lo facciamo perché di fatto poi la perfezione potrebbe non esistere l'autosabotaggio purtroppo esiste esiste facciamo proprio fatica ad eliminarlo magari riuscissimo a disattivarlo perfetto però è un po male della società no dover le critiche dover ascoltare le critiche dover dire la nostra anche se non conosciamo quella persona e sicuramente nel caso in questo caso quando una cosa sembra troppo bella per essere vera e magari siamo abituati in passato ad aver ricevuto degli schiaffi dalla vita cerchiamo di disilluggerci da soli per non farci del male in realtà ci stiamo facendo più male che se lasciassimo le cose così come sono sì diciamo basterebbe vivere il momento e prendere poi quello bello il buono che c'è tanto siamo capaci tutti di rialzarci alla fine faccio lo sgambetto da soli non non ha senso concordo concordo pienamente una cosa che mi incuriosisce molto della del tuo romanzo è che il tuo paesino di montagna il paesino che tu descrivi quello di di nell e nick fondamentalmente potrebbe essere uno qualsiasi dei paesini di montagna che o lungo l'arco alpino o lungo l'arco l'arco dell'appennino possiamo incontrare e ne abbiamo tantissimi pure qui in campagna ne abbiamo tantissimi la scelta di non dare una collocazione definita geografica a questo paesino di nelli e di nick è stata una scelta diciamo di comodo oppure c'era un significato preciso io mi sono lasciata ispirare al 100 per cento dai luoghi in cui come dicevo sono nata e vissuta vivo in un posto bellissimo che sono gli appennini tosco emiliani sono in montagna sono un'ora dal mare ho veramente una cornice perfetta dove vivere ed è per questo che quando vedo che c'è dell'inquinamento tale da dover andare via di casa mi sale una rabbia nel senso di ingiustizia che non ha una paragone però voluto che rimanesse anonimo però ci tenevo che venisse fuori il fatto che fosse un paese in italia perché in italia abbiamo dei posti meravigliosi il mondo ci invidia abbiamo tutto abbiamo la montagna abbiamo le dolomite abbiamo gli appennini abbiamo le alpi il mare i borghi abbiamo gli luoghi d'arte abbiamo tutto e quindi ho voluto rimanere in italia però che fosse vago in modo che ognuno potesse potesse trovarci il suo luogo il suo luogo di infanzia ho voluto giocare un po sui nomi dei paesi ho cercato di dare non a tutti ma quasi tutti dei dei nomi di alberi esempio roverella ho fatto una piccola ricerca sui nomi da dare a questi paesi una mi permetti una digressione quando parliamo di paesini di montagna o di scrittori che si sono dedicati anima e corpo alla montagna non posso non pensare a mauro corona mauro corona che vive nel diciamo nella sua proprietà nella sua baita ma che poi di fatto è un personaggio molto presente in televisione a volte è divisivo è polarizzante lo si può amare lo si può odiare però quello che dice vabbè quando quando non si esprime su tematiche come il femminismo eccetera diciamo che se parla di natura sa perfettamente cosa sta dicendo e sa quanto è centrato sulla sulla tematica e che mi sembra un po una voce solitaria quanto è importante fare la propria parte anche per chi scrive come te quindi essere molto presente anche nelle città nelle presentazioni per invogliare le persone a fare quei piccoli gesti di a me viene da dire di cultura dell'ambiente fosse anche solo non voglio di piantare gli alberi perché poi in italia c'è anche tanta burocrazia parliamoci ma basterebbe evitare di andare a distruggere quelli che già ci sono credo che sia importantissimo ma non solo nelle grandi città sicuramente però anche vero che uno che vive in città più di un tanto oltre a fare la sua parte ovviamente per il sociale però più intanto non può io vedo proprio anche chi vive la montagna no non sempre sente questo tema così forte perché comunque si guarda intorno vede tutto bellissimo quindi il problema non esiste invece oppure quando vedono il problema che c'è tanti fa finta di niente per comodità per per tante cose che però non si sposano con l'amore che hai per la natura per la montagna beh se c'è una cosa che la pandemia ci ha insegnato o meglio ci ha dimostrato e che senza di noi il pianeta vive benissimo senza le nostre attività recupera velocemente quindi non lo so che sia stato un campanello d'allarme una visaglia il problema è che è difficile ti dico io proprio con questa esperienza ho visto che se ne parla tanto perché se ne parla ne stiamo parlando ne adesso ma se ne parla tantissimo però di fatto non si fa poco e nulla però è un problema è un problema che poi prende tutti tutti siamo nello stesso pianeta nello stesso momento quindi non è una cosa che riguarda solo i poveri o i ricchi riguarda tutti no guarda concordo quando tu dicevi prima nelle grandi città però ad esempio non rimanere indifferente davanti a quei quegli spazi destinati agli alberi cittadini rimasti vuoti magari protestare o comunque mobilitarsi per far ripiantare oppure evitare quei tagli indiscriminati che non si sa perché di punto in bianco arrivano le ditte pigliano e segano e tu dici ma in fondo quest'albero sembrava bello vivo solido cioè perché problema sono gli interessi commerciali sì però è anche vero che noi dovremmo fare la nostra parte no perché se ci facciamo togliere tutto io ti ripeto con nella mia esperienza ho vissuto sulla mia pelle cavolo ti stanno ti stanno portando via all'aria comunque l'aria pulita o l'ambiente bello sano che dove tu vivi e la maggior parte non diceva niente e quello mia mi ha scosso molto perché io finché posso la mia parte la faccio ci metto la voce qualcosa dicono mi lascio far portare via tutto così in silenzio invece come dicevi tu gli interessi sono sono più forti la paura la paura di dire la propria però più più alta la paura più forte che farti portare via qualcosa che ti appartiene di diritto che paura devi avere forse la paura di essere solo di essere additato siamo sempre torniamo sempre nel discorso dei dei giudizi amiche amici della lettura oltre al oltre alle chiavi di casa il romanzo dell'ospite di questa sera comprate anche il metodo sti cazzi così quando qualcuno viene a dire ma tu lo sapete dove lo dovete mandare quel paesino tedesco lì fan chiule ma elena mi interessa molto la elena boggia scrittrice tu che tipo di scrittrice sei quando hai scritto il tuo romanzo sei stata una ispirata come dire da un flusso di coscienza da un sogno onirico da un un istinto violento un proprio una rabbia oppure sei stata molto metodica hai scelto in maniera scientifica l'argomento hai delineato la trama principale le trame collegate allora nella tua domanda c'è l'elenco di tutto quello che c'è in questo libro stavo ascoltando bene ma ci hai messo tutto come ti dicevo all'inizio è nato proprio come un flusso mi vengono proprio le frasi nella mente e io scrivo quando sono particolarmente brava se avessi scritto tutte le frasi che mi sono venute in mente negli anni sarei molto più avanti che di un solo libro quindi si è iniziato così però non c'era questa questo bisogno di fare di giustizia di diciamo che di far uscire una cosa positiva in una cosa estremamente brutta che mi è successa volevo che ci fosse un bagliore di luce ok quindi dopo è subentrata la questa volontà forte e poi è arrivato il metodo nel senso che prima ho scritto disetto sono passati tanti anni e non è che una cosa così immediata preso e ripreso diciamo che negli ultimi un anno e mezzo ho scritto la parte praticamente quasi tutto il libro però è stato preso e lasciato più volte appunto la fase finale è quello di ok ho scritto di getto mi rivedo tutto quello che ho scritto e vedo che cosa c'è di buono e che cosa invece è meglio lasciar perdere e poi doveva arrivare ad un finale questo questo romanzo po perché volevo arrivare in fondo mi piace vedere gli obiettivi e raggiunti e poi perché giustamente se deve essere chiamato romanzo deve seguire delle linee guida ok quindi c'è un po di tutto c'è la di trasporto c'è la volontà di di trovare in questo libro uno sfogo una risposta una giustizia e poi c'è un po di di metodologia da scrittrice di anche perché ha fatto un po tutto da sola non sapevo bene quali erano le caratteristiche che doveva avere un romanzo per chiamarsi tale e qui dopo aver terminato il libro mi sono fatta comunque anche aiutare da persone che prima di me avevano scritto se ho letto tanto mi sono documentata mi hanno consigliato un libro e alla frase se vuoi pubblicare riuscire a pubblicare il libro devi leggere perché per scrivere bisogna leggere anche questo mi ha devastato un attimino io voglio scrivere mi sto dicendo che devo leggere invece mi è stato di fondamentale aiuto ho letto il viaggio dell'eroe e lì ho trovato le linee guida insomma sono rimasta contenta perché la maggior parte dei punti li avevo li avevo già mi è servito metterli un pochino a posto ho rivisto delle parti che effettivamente non funzionavano molto e quindi ho fatto un po di editing da sola e poi vabbè mi sono affidata alla casa editrice che mi ha mi ha dato una buona correzione mi ha dato degli spunti però insomma tanto lavoro l'avevo già fatto riprendendolo in mano rileggendolo e vedendo cosa andava cosa no Elena tu hai avuto una routine di scrittura nel senso durante tutta quella fase di prima la fase creativa poi la fase di rifinitura di laborlime hai avuto avevi dei giorni delle giornate precise degli orari precisi preferivi la notte ha più che preferivo mi toccava la notte perché a volte non avevo altra scelta o comunque una famiglia con due figlie lavoro e quindi mi doveva ritagliare però insomma se c'è la volontà di arrivarci in fondo bisogna ritagliarsi magari sabato una domenica della notte mi ricordo che ho finito l'ultima pagina prima di fare la parte della revisione la mattina di pasqua quando loro secondo la famiglia si è alzata e dopo ho finito avevo due occhiaie fino fino al naso però sono arrivati in fondo diciamo che la routine faccio un po fatica ad esempio adesso mi sto dedicando a un po la promozione di questo libro quindi mi sto guardando un attimino come ti dicevo sto lavorando posso una raccolta di poesie quindi tempo di scrivere cose nuove non me lo sto ancora apprendendo nella fase in cui volevo arrivare in fondo al libro mi sono data comunque entro la settimana non so almeno 23 tre giorni devo dedicarmi a quello però ti dico quando mi prendevo il mio spazio ad esempio stasera dalle dalle nove in poi mi ci metto è molto faticosa la prima parte perché devi staccare dal mondo reale quello che c'è intorno a te per dedicarti per immezzati in quella storia e andare avanti una volta che riuscivo a passare il cancello di quel mondo da lì non sarei più uscita se ci stavo stavo proprio bene entravi nel famoso mood no entravi nel flusso esatto parliamo di blocco della scrittrice quella proprio quel 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 momento che tutti temono quel momento che può durare anche molto a te è capitato sì come ne sei venuta fuori qua mi aggancio un'altra cosa ho letto dei degli altri romanzi in cui c'è spesso questa figura del dello scrittore che va in questo paese isolato affitta una mansarda di solito sempre la mansarda e sta lì dei mesi perché deve terminare il suo romanzo e detta così sembra un pazzo no questo ha lasciato tutto per andare a affittare una mansarda chissà dove però lo capisco perché se vuoi raccogliere le idee entrare in quel mood come dicevamo prima devi isolarti da tutto da tutto se vuoi arrivare in fondo se hai delle scadente soprattutto per uno scrittore professionista a delle scadenze il blocco dello scrittore ce l'hai soprattutto se nel mio caso parlo se non riesci a trovare quella mansarda comunque quel tempo da stare lì e pensare solo a quello poi nonostante hai quella possibilità credo che comunque ti possa venire lo stesso blocco perché sono idee idee che devi raccogliere e buttare giù quando ti vincono in mente se ci ragioni troppo già è una cosa più programmata elena vorrei farti una domanda un po impertinente sentiti libera di non rispondere ovviamente tu hai scelto di vivere tra le montagne dell'appennino tosco emiliano e come dire non sei l'unica ma non se non rappresentate la maggioranza infatti uno dei problemi che ha l'italia è che pur avendo una conformazione geografica che dovrebbe favorire questi tipi di insediamenti parlo dei comuni montani in realtà sono decenni che progressivamente si stanno spopolando andando la popolazione va verso le grandi città della costa piuttosto che verso le grandi città più dell'interno non lo so mi vengono in mente potenza piuttosto che l'aquila urbino la stessa milano torino da qualche anno a questa parte però fortunatamente le regioni autonomamente chi più chi meno si stanno muovendo verso l'erogazione di fondi statali per contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni montani parliamo però di spiccioli parliamo di quanto sono 2.500 3.000 euro l'anno grosso modo pochino per riattivare un pochino per riattivare una vita montana che comunque una vita di sacrifici questo ce lo possiamo dire perché quando quando cade la neve il comune si isola è complicato dire vabbè lo spazzaneve il sale sì ma fino a un certo punto io mi ricordo degli anni passati a bolzano non è problema fuori bolzano era complicato muoversi qual è secondo te una modalità operativa che andrebbe adottata dallo stato perché una mezza idea me la sono fatta però vorrei sentire prima il tuo parere se ti va di parlarne sì sì certo volentieri come dicevi questi questi aiuti non sono sufficienti per per un giovane per una famiglia potrebbero andar bene magari per un pensionato che ha comunque il suo reddito senza doversi spostare da casa e quindi magari riesce a vendere la sua casa e acquistarne un'altra modo scolmere trova per chi deve perché ha famiglia per chi deve anche solo mantenersi da solo non sono sufficienti come dicevi giustamente vivere montagna vuol dire tanti sacrifici spostarsi comunque anche io dalla città più vicina che è parma sono comunque dai 60 ai 40 chilometri la vita dal pendolare non è non è facile diventa anche un po una modalità di vita no devi metterti in pace io per esempio viaggio col treno quindi mi devo mettere il cuore in pace se c'è il treno bene se no è inutile arrabbiarsi chi viaggia in macchina anche peggio quindi è fatta di tanti sacrifici secondo me un modo potrebbe essere e qui ci ha insegnato il nostro malgrado il covid per chi può per alcune tipologie di lavoro lo smart working è di grandissimo aiuto e non tutte le aziende lo concedono però è un grandissimo aiuto per per chi vuole comunque vivere in un posto che non sia la città però secondo me anche i piccoli paesi perché questa è una scelta che deve fare l'azienda e quindi che si trova in città invece qualcosa che potrebbe fare il paese è valorizzare il proprio territorio e tu mi parlavi di bolzano che la città che conosco bene il trentino è una regione che amo particolarmente però la vedo la differenza nel incentivare tutto quello che è territorio sono loro sono anche autonomi però però loro sanno cosa fare delle delle proprie risorse è vero hanno fabbriche anche la ci mancherebbe però valorizzano le loro montagne sanno che la gente disposta a farsi chilometri per arrivare la e puntano sul turismo da noi secondo me si fa ancora troppo poco questo è un pensiero mio invece che aprire fabbriche di un certo genere punta sul turismo che c'è gente che fa la fila per venire anche da noi che è un piccolo trentino se vogliamo dirlo altre caratteristiche ma non ci manca nulla come dicevo io mi trovo proprio sulla sul confine di tre regioni e sono una più bella dell'altra abbiamo montagna abbiamo mare secondo me si fa troppo poco darebbe tanto più lavoro alle persone che ci abitano senza bisogno di spostarsi guarda io concordo e ti dico proprio perché ho vissuto per tre anni in alto adige che se diciamo trentino poi i bolzanini si arrabbiano no quello altro anche su tiroli dobbiamo dire alto adige su tiroli più tiroli altrimenti ci siamo che è meglio perché i trentini e bel stirol è il terreno è il tirolo straniero era proprio una tre anni il fatto è questo su in in alto adige c'è l'autonomia anche in tre e in trentino e la sanno gestire molto bene a mio avviso si dovrebbero creare le condizioni adatte per le aziende per concedere lo smart working non dico obbligarli però per concederli magari un po di flessibilità anche qualche sgravio fiscale perché parliamo e per quanto riguarda le aree montane magari creare delle micro zone ad autonomia economica potrebbe essere una scelta per carità difficile da attuare però possibile perché se tu mi abbatti i costi della vita in una zona dove per vivere c'è comunque bisogno di costi diversi perché lì semplicemente il metano non è che arriva non è che io vado lì accendo lì c'è bisogno o di portare il diciamo il combustibile per poter accendere i riscaldamenti oppure c'è bisogno della legna quindi anche solo il tempo per accumularla per accadastarla per portarle in casa se diventa umida se abbastanza secca voglio di vivere in montagna vuol dire abbracciare proprio uno stile di vita diverso però se tra lo stile di vita montano e lo stile di vita cittadino io non ho qualcosa che mi faccia preferire realmente lo stile di vita montano ci rinuncio ci rinuncio perché la vita del pendolare diventa complicata i costi sono non voglio di più alti ma so più o meno gli stessi se poi neanche lo smart working e anche se fare tra l'altro fare imprese in montagna è complicato è difficile perché il turismo se lo devi portare e non è come quando per dirti a salerno attracca la nave da crociere scendono i turisti e tu ce li hai già belli e pronti li devi portare e sappiamo che devi garantire anche le strade esatto posto è un problema grosso per questo parlavo di un'autonomia diciamo di un magari di un cons abbiamo i parchi regionali quindi magari dare un certo tipo di autonomia per permettere poi la anche l'imprenditoria semplificare però più e semplificando anche la burocrazia tante persone che avevano delle belle idee però non possono realizzarle perché sono bloccati elena una delle domande che mi piace porre agli ospiti di questo canale è una domanda personale che cos'è per te la felicità è bellissima domanda semplice ma ma profonda secondo me per me personalmente la felicità è la capacità di apprezzare le piccole cose quindi la felicità per me corrisponde alla semplicità ma sta anche nell'imparare a conoscersi a capire quello che ci fa star bene quello di cui abbiamo bisogno noi e non per forza deve essere quello che vogliono vedere gli altri da noi e quindi anche imparare un pochino a conoscersi senza dovere troppe giustificazioni quali sono i tuoi progetti per il futuro che cosa bolle in pentola oltre alla promozione del tuo romanzo te lo dico in una parola che è scrivere ho aspettato fino adesso ho sempre scritto però non come non gli ho dato lo spazio che meritava alla scrittura però indietro non si non bisogna mai guardare quindi guardiamo avanti da adesso in poi mi piacerebbe acquista acquisire una una routine di scrittura essere più costante più consapevole mi piacerebbe frequentare comunque iniziare a l'obiettivo che mi ero posta nel 2023 era pubblicare questo libro posso ritenermi soddisfatta e di entrare un pochino nel mondo della della scrittura no inizia a respirare un po di aria di scrittura ed ho iniziato nel 2023 vorrei nel 2024 quindi iniziare a frequentare le fiere non solo per il mio libro ma anche proprio per conoscere altri autori per conoscere il mondo della scrittura che penso che sia bello quando si creano delle sinergie perché ognuno ha qualcosa da dare all'altro e da ricevere dall'altro e io te lo auguro perché ti auguro di portare nelle fiere e nelle presentazioni ovviamente del tuo libro il messaggio che vuoi veicolare quel messaggio di tutela della natura perché come dicevi tu siamo tutti su questa enorme barca che però diciamo ce la dobbiamo tenere gara altrimenti altrimenti ci dà un calcio nel sedere a tutti quanti altro che viaggio dell'eroe ci fa fare il viaggio nel umido io vorrei ricordare a chi ci ha ascoltato finora che le chiavi di casa il romanzo a sfondo naturalistico di elena boggia è edito da at le edizioni e ovviamente è promosso da agenzia sopra le righe e acquistabile in tutte le librerie d'italia quindi basta ordinarlo se siete di parma e dintorni chiedetelo in libreria e chiedete la presenza dell'autrice per il firmacopio e sono sicuro che elena non ve lo negherà nella versione digitale cartacee acquistabile dal sito di agente di attire edizioni ed amazon.it trovate il link in descrizione vi invito a seguire i profili della attire edizioni ed iscrivervi alla newsletter per seguire le no per a sapere tutte le nuove uscite di questa casa editrice a seguire il profilo di agenzia sopra le righe per rimanere aggiornati sugli autori e le autrici che l'agenzia promuove e vi invito inoltre a seguire i profili social di elena boggia perché se volete che il messaggio di elena possa continuare a passare di bocca in bocca non aspettiamo la prossima greta tamberg perché potrebbe anche essere un pelino troppo tardi diamocene una mossa quindi condividete il non solo il profilo di elena ma soprattutto il messaggio che condivide attraverso il suo romanzo elena io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato per la pazienza che hai avuto e ti aspetto ti aspetto per per sapere poi come va con le fiere volentieri un abbraccio ciao elena ciao grazie mille